Tommy, di qualcosa, com'è, com'è andata? Eh? Fa il commento. Ma è un video. Sì, sì, sì. Sì, bene. Sì, dai. Dai, sei stato bravo. Che siamo peggio. Complimenti. Grazie. Bisogna una mano, ti va sulla barca? Sì. Ok. E' importante, ma siamo oramai alle battute conclusive. I grandi sportivi e gli appassionati del canottaggio possono già iniziare a distinguere i colori del body. Vediamo la divisa della Canottieri Aniene. La vogata è proprio la sua, lo vediamo con il numero uno. Sta oramai raggiungendo la storica tede della Canottieri Varese per andare a sigillare e andare a conquistare ancora una volta la più importante, la vittoria. E' proprio lui. Ed è lì a lui che va a avvicinarsi sempre più al traguardo seguito a ruota libera. E poi in quarta posizione Andrea Bonetti. Andrea Bonetti, ricordiamo, storico compagno di Pietro Ruta. Atleta in porta alla Canottieri in menaggio l'anno scorso. Vincitore del doppio titolo italiano nella specialità del doppio. Under 23 e senior. Quest'anno invece medaglia d'argento. E proprio in questo istante vediamo transitare sul traguardo in grande forma Andrea Poes con il numero 35. Andrea Poes in grande forma che ha recuperato veramente tantissime prestazioni e posizioni. Vediamo anche Christian Papa chiudere la propria prova. Va seguito a ruota libera da tantissimi altri singolisti ed è questo lo spettacolo che piace a tutti gli appassionati del canottaggio. Giustamente la tifoseria mi chiede informazioni per sapere a che punto sono gli atleti sul traguardo. Abbiamo visto Filippo Moscatelli della Canottieri in Milano ed è Laura Milani lì al centro. Lo possiamo vedere, ricordiamo, medaglia d'argento, medaglia storica per il canottaggio femminile. Con il numero 21 ed è il numero 21 Laura Milani che va a tagliare il traguardo e a conquistare la festa della classifica per il settore in femminie. È proprio lei la protagonista per il settore in rosa. Continuano in salto del campo a cento invece con il numero 42 Gabriele Checola e invece vediamo arrivare con il numero 24. Signore e signori i colori sono sempre delle fiamme gialle Elisabetta Sancastani. Elisabetta Sancastani seguita a ruota come se fossimo nel ciclismo da Laura Stiabone. E invece in quarta posizione vediamo la valesina Sara Bertolazzi. Ed eccoci intanto con Giada Colombo. Giada Colombo, atleta in corsa, la città di Trissium, vincitrice della specialità del singolo junior. Un'atleta ancora giovanissima, convocata e partecipante l'anno scorso ai campionanti del mondo assoluti. Anche lei chiude la propria prestazione. E poi vediamo il traguardo anche con il numero 98, un altro nome illustre del nostro canottaggio femminile. E' il Graspello. Via Deborah, chiudi! Veramente arrivi emozionanti, questo è lo spettacolo del canottaggio, ma questo è lo spettacolo regalato dalla Copa in Tuglia, ma lo spettacolo più grande secondo me è quello che potete ammirare tutti alla vostra sinistra. Chiedo a tutti di armarsi di macchine fotografiche perché vedere tutti questi singoli davanti a una società di canottaggio è assolutamente una cosa inusuale, una cosa insolita. Vediamo tanti singolini transitare, tanti sono arrivati non per cattiveria ma per le prestazioni, ma soprattutto per gli arrivi in simultanea. Non possiamo andare ad annunciare tutti i nomi. Questo è sicuramente il canottaggio che ci piace, il canottaggio che ci diverte. Iniziamo con il numero 60, proprio in questo istante sul traquardo Vittorio Liberti ed è la volta invece per un altro atleta del numero 26, sono ancora una volta i colori della Canottieri Varese ed è Erika Mai che va ad aggiudicarsi ma soprattutto va a concludere questa prova. Ricordiamo Erika Mai, atleta in forza ai giochi del Mediterraneo nella specialità del doppio. Sicuramente interessanti, abbiamo il numero 48, Simone Massati, atleta della categoria Junior, a seguire poi con il numero 64, una volta di un atleta master, forse uno tra i primi master a giungere sul traquardo, sono i colori della Canottieri Varese con Guido Zocchi seguito dalla Vittoria Nella e poi è la volta della... ...e lo rendono a Angelo come è andata la partenza. Tutto a posto è Angelo Fettoletti, uno dei giudici arbitri impegnati in questa regata, uno degli storici giudici arbitri della provincia di Varese, che dà l'ok, vuol dire che è partito tutto in modo regolare, sicuramente poi avremo modo di parlargli più avanti, ma lo spettacolo, come vi dicevo, è veramente sulla vostra finita, dove potete vedere uno sciame, un enorme agglomerato di singoli che stanno occupando qui il palcoscenico della Canottieri di Varese, ma soprattutto il lago di Varese, come dicevamo in apertura, uno dei laghi più importanti per quanto riguarda il campo nazionale, ma anche internazionale. E' l'Australia, l'Inghilterra, la nazionale italiana e tante altre ancora, sono solo alcune delle realtà, premiere nazionali e internazionali che decidono di sfruttare questo bacino remiero, ed ora che anche gli atleti stanno raiocchendo il proprio benicentere, sempre, maggiore, possiamo affermare che è la prossima volontà che il presidente della provincia di Varese, che niente da giocare che... Allora, una dichiarazione? Grazie, grazie, è stata una gara dura. Com'è stata? Non sono riuscito a battere il mio compagno di squadra, però... Ah, sei vato a poco distanza, sai. È stato bravo? Di partenza, sono contento. Ok, bravo. L'importante è partecipare, l'importante è divertire. Dichiarazione? Eh, è andata bene. Bene? Com'è stata dura? No, non particolarmente, pensavo di meno. Siamo riusciti a tenere 29 colpi e mezzo. Come sei vato là, eh? Sei vato là? Ah, non sei andato tanto dopo. No, ma sai cosa? Sono partito, sai come. Allora, che ti dico. Eh. Dichiarazione? Non è andata male. Devi solitare, svegliarsi un po'. Come è stata? Allora, come è stata? Eh? Come? Casino. Cioè? Dai, dai. Ti ho visto bene comunque, eh. Mi faccio un po' di nuovo. Sì. No, dopo si può passare avanti. Ah, voglio altro. Ma se non ti ho visto i fatti passare avanti, non ha più senso. Ti ho visto proprio. Vittor, una dichiarazione. Capo. Com'è andata? Allora, com'è stata? Sono divertito un casino. Duro? Che sei a fianco a fianco con gli altri. E poi fanno lo slalom per cercare di passarli. Guarda, quando l'ho fatta io che sono partito. Comunque Vittorio, a vederli, mi è venuta l'ispirazione. Ma che non l'hai fatta? Non fare, non carizzare domani. Perché non...